Musica 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 L'hanno fatto in tutto 21 ghida Sì, l'hanno fatto Eeeh, ok Vistora, pompa Andiamo a fare ghida, vediamo Oh, fra Scendiamo E di palloncini, fra Ma no, aspetta E' un po' di palloncini E meccano, ancora ne è passato E' un po' di palloncini Ce l'ha skipping a lui E' un po' di palloncini Quanti a parte Non so Asciuga Un po' di palloncini Non so Ma no Ma no Grazie. 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 Mi ha fatto bene, perché sai quello che si tostava? Stava in passatempo. Si è mangiato la pizza e ci ha raggiunto quella aeree. Eh, non c'è più. Non ferma. Beh, ho accontrato e mi ha fatto una cosa sempre lì. No, non c'è più. 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 Oh, gente, regà. Gente. A 3.30. C'è gente a 3.30, regà. 3.30. Oh, basta sparare, regà. Mi caccio, eh. Oddio. Adesso. E' già un panico Dove sono? No, però no. Si è! Vista a 3.30. Pass gluten. Come li faccio? Non fa nulla o no. Ah, o pali ci sono! Attura. Amplificati. Allora, guardiamo. Ok, ok, ok. ma eh vabbè è uno che saliva dietro con me ma io sto dietro già se poi c'ho gli shadd in no ragazzi a terra sono gli ultimi a terra c'ho sette trappe eccoli raga eccoli a 110 ok sono due bra c'è un due dai dei band a filo bra a filo ma dove fanno la 10 c'ho l'ultimo di c'ho l'ultimo di c'ho l'ultimo di vita se vinciamo ci danno 100 euro diglielo diglielo e poi c'ho l'ultimo di fanno 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 ragù adesso spanno che vibourne Lì, sono io a filo Raga, giù, prendiamo il safe, prendiamo il safe Raga, prendiamo il safe, qua 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 Vieni qua, raga no 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 e si ormai le trovate insi Dai, dai, dai Gini Grazie